Più che un progetto sembra la tela di Penelope, tessuta di giorno dalla tua e disfatta di notte dalla Comitato Strada Parco. Da 27 anni il transito della filovia su questa striscia d'asfalto ha un andamento stop and go e chissà se questa sarà la volta buona o cattiva a seconda delle opinioni. Comunque sia, da ieri, cantiere aperto al confine fra Pescara e Montesilvano, anche se incombe il TAR. I giocatori in campo sono sempre gli stessi, il Comitato Strada Parco Bene Comune, da una parte, composto da cittadini e residenti, e la tua, che deve realizzare l'opera di mobilità urbana rispettando la natura per la quale è stata finanziata. È scaduto il termine per la valutazione di impatto ambientale il 5 novembre del 2019 e non è stato mai rinnovato. Oltre questa questione di legittimità, poi ci sono una serie di problemi inerenti alle criticità del sistema proposto. Innanzitutto, per quanto riguarda l'altezza delle banchine, portate a 15 cm dalle attuali 30 cm, perché questa è l'altezza standard delle banchine di Pescara, supponendo quindi che questo percorso sarà interessato non dal filobus che è stato acquistato con un contratto da parte di tua SPA pari a 9 milioni di Euro, ma dalla circolazione di autobus elettrici o con altra alimentazione, ma non che servano il sistema di trasporto rapido di massa. E ultima questione, ma più importante di tutte, è la mancanza di sicurezza che su questo servizio insiste. Tutto è in linea con quanto è fattibile oggi, nel senso che il mezzo che era previsto non è stato più prodotto perché la ditta è fallita. Il nuovo mezzo è un mezzo filoviario, si tratta di un tracciato filoviario, quindi non vedo quale problema ci sia. Per l'abbassamento delle banchine? Anche le banchine sono state oggetto di interpellanza del Ministero e il Ministero ha segnalato l'abbassamento, è stato il Ministero a segnalarci l'abbassamento. Ci saranno delle difficoltà per le persone disabili? No, nella maniera piaciuta anche perché i mezzi sono dotati di pedane per l'accessibilità sui mezzi. Gli stessi ingegneri del Ministero hanno verificato dimensioni che non possono essere derogate, sono quelle stradali, anche perché il mezzo non potrebbe transitare di norma. Agli interventi sono quelli di rimozione delle pensiline che verranno recuperate, ci sarà un restyling, una ripulitura, tutti i danneggiamenti verranno ripristinati. C'è la questione dei marciapiedi, l'abbassamento dei marciapiedi, l'abbattimento delle barriere architettoniche, questi sono i lavori. Sul tratto in specifico di Pescara verrà rifatta la pavimentazione, una pavimentazione fibro rinforzata come è già presente sul tracciato di Montesilvano. Il cronoprogramma, come ho già detto in altre occasioni, è di 365 giorni.